Raga, in nome della scienza sto per fare un casino Ciao raga, com'è? Tutto bene? Oggi ho intenzione di fare un piccolo esperimento Praticamente ho preso del ghiaccio secco Che non è nient'altro che anidride carbonica, CO2 E si trova attualmente a meno 78 gradi Non appena lo butterò nell'acqua calda Questo qua diventerà subito gassoso, ok? Ma tanto gassoso Io ho preso una decina di chili E ho intenzione di buttarli dentro la masca Per vedere un po' che reazione farà Ma non solo quello, per vedere anche la reazione di Katia, ok? Sono un po' agitato per questa cosa La chiamo Katia! 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 Oggi, in nome della scienza, voglio fare un piccolo esperimento nella nostra casuccia, ok? No, Luca, mi fai paura quando fai così, ci prego. Mi fai paura a non ridere. Bene, raga, in nome della scienza! 3, 2, 1... Luca! Vuoi esagerato? Cazzo che ha ti esagerato? Luca! Luca, ma che scemo! Katia, non respirare! Non respirare, via! Che casino! Raga, funziona! Luca, mi ha finito! Katia, che casino! Luca, mi ha finito! Sto male! Raga, ho fatto un casino! Oddio! Fermati! Katia, dove sei? Luca, per favore! Cioè, ma sei pazzo! Cosa sta succedendo? Oddio, guarda le scale, Katia! Sembra di essere in un film horror, Katia! Luca, ma esplode sta roba? Luca, sei sicuro che non esplode la vasca? Katia! Ho creato un buco nero! Che cazzo? Sto male! Ma che cazzo riti! Cos'è che hai buttato nella vasca? Apriamo le finestre, Katia, vieni! Katia! Katia! Sto male! Si può sapere che cos'è buttato nella vasca? CO2! Andiamo a bloccarlo sopra! Non si può bloccare! Ma che non si può rinascarli? No, finché non finisce! Che c'è un sceo! Bene, raga, se vi è piaciuto questo scherzo! Ma... Non dovete far altro che lasciare un like, ma lasciatelo ora, perché se no ve ne dimenticate! Ma che roba! Ma va! Ma guarda che farà male respirare sta roba! CO2! Anidride carbonica! Beh, secondo te fa male? Dai! Boh! Senti che fresco però! Io mi sento la pola strana! Non si può toccare! Non toccare no, è congelato! Non toccare! Non toccare! È caldo! Bene, raga, se vi è piaciuto questo scherzo non dovete far altro che lasciare un like! Condividete il video se ovviamente vi è piaciuto! E adesso come lo leviamo tutto stesso! Non lo so, finché non finisce non possiamo fermarlo! Ti giuro, sono agitato! Guarda, mi trema anche tutta la mano! Perché non sapevo esattamente che... In realtà io pensavo che facessi meno casino! Cazzo, non mi guardare così! Dammi una mano a fare qualcosa! Mi do una mano un cazzo! Adesso risolvi tu sta roba! Guarda là! Cioè, ci sono proprio... Oddio! Ah, di qua non è entrata! Oddio, sto entrato! Chiudo! Non farmi entrare in camera! Perché ti ripeto che a me fa male la vola! Ho fatto un casino! Raga, ho fatto l'ennesimo casino! Lo sapevo che era uno scherzo di merda! Come lo togliamo tutto sto fumo? Sei fermata la vasca? No! Dai, perché devi fare questi esperimenti? Che palle! Tu sei pericoloso! Sto male! Ma come fa ad esplodere? È come dire che quelli del cielo fanno un buco nero! Appunto, lo fanno! Dai, comunque si è affievolito, no? Si è affievolito! Meno male! E' un infarto! Per i miei! Guardate! Sto male! Bene raga, se vi è piaciuto questo scherzo, non dovete fare altro che lasciare un like, condividere il video, commentate ovviamente, suggeritemi altri scherzi geniali, perché io li vado a fare veramente, anche se sono difficili! A me suggerite, io li vado a lui, a me, raga, anch'io posso fare scherzi geniali! Ma se ti sei cagato addosso! Non fa un c***o, va! Vieni a vedere, vieni a vedere, vuole fare una cosa! Ma raga che sembra... Boh! Comunque mi hai fatto sboccare! Sto male, raga! Luca, hai bagnato dovunque! No, è vero, si è bagnato ovunque! No! Guardate! Cioè, hai proprio bagnato! Cioè, il pavimento era una merda completa! Avevamo appena pulito! Aspetta! Mi sei... Ah, ecco, no, niente, per continuare ad urlare ora! Luca, va! Hai bagnato davvero tutto! Ma anche le scale? Tutto! Fai vedere! Tutto! Basta riprendere, adesso è ora di pulire tutto! A presto! A presto! A presto! A presto!